Maggiore facilità di accesso al credito, tassi di interessi agevolati e possibilità di prestiti sino a 150.000 euro. Ottime opportunità in arrivo per artigiani e piccole e medie imprese del territorio. Ad offrirle è la nuova convenzione sottoscritta tra la banca di credito cooperativo di Canosa-Loconia e la cooperativa artigiana di garanzia di Canosa di Puglia. L'importante accordo è stato siglato ieri pomeriggio presso la sede della cooperativa che in virtù di questo potrà garantire grandi vantaggi e condizioni favorevoli ai propri soci in termini di finanziamenti aiutando così lo sviluppo delle attività locali sia quelle in fase di start-up che quelle già esistenti. Questa convenzione porta a migliorare il servizio ai nostri soci sia con i tassi che con l'aumento dell'erogazione ai soci. Possiamo erogare oggi grazie a questa convenzione a un importo fino a 150 mila euro con un chilografario fino a 60 mila euro. Molto importante perché per le piccole e medie imprese oggi diamo ossigeno alle attività. Importante anche che con questa convenzione abbiamo un fondo con l'antiusura del Ministero del Tesoro che è importantissimo, che questo fondo lo gestiamo con la collaborazione della BCC di Canosa, importantissimo perché questo fondo antiusura serve soprattutto per chi oggi non può accedere al credito perché ha avuto problemi in passato e quindi noi aiutiamo queste imprese. La convenzione segna una nuova fase nel lungo rapporto di collaborazione tra la cooperativa artigiana di garanzia e la banca di credito cooperativo di Canosa Loconia che conferma ancora una volta il suo impegno per far crescere l'economia del territorio attraverso il sostegno alle imprese. È un accordo che vede ancora la banca accogliere quelle che sono le legittime richieste per migliorare e per dare ulteriore impulso al finanziamento, allo supporto delle piccole imprese qui locali del territorio. Rinnova con questo accordo una possibilità soprattutto di aumentare, di creare delle opportunità maggiori rispetto all'accordo tuttora in essere e comunque è una soluzione che chiaramente rivede tra l'altro rinforzare questa intesa tra la banca e la cooperativa per allargare ulteriormente, dare ulteriore supporto per tutte quelle imprese che hanno bisogno di ulteriori risorse per lanciare quella che è la loro attività sul mercato.